Hanno scelto la sede Rai di Napoli in Viale Marconi per far sentire la propria voce e dire anche noi contiamo. Sono i militanti del Partito Pensionati d'Europa nato da una scissione con la compagine politica che rappresenta parte della categoria dei lavoratori a riposo. Dopo un periodo di carica provvisoria è stato confermato in qualità di segretario il campano fortunato Sommella che negli scorsi giorni in pieno dibattito sulla riforma della legge elettorale ha chiesto l'abolizione dell'obbligo ai partiti non presenti nelle camere di presentazione delle firme per accedere al voto. Nelle sue parole le ragioni della manifestazione e della rappresentanza dei pensionati. Abbiamo cominciato dalla Rai ma non ci fermiamo qui perché andremo sotto tutti gli organi di stampa della campagna perché non ce la facciamo più a sopportare le angherie e il silenzio tombale che esiste intorno a noi. Noi siamo portatori di istanze popolari che sono importanti cioè contro uno Stato che non riconosce il popolo degli anziani. Questo siamo venuti a fare stamattina e lo vogliamo fare e lo faremo con grande forza nei prossimi giorni dinanzi a tutti gli organi di stampa.